Un secondino, è ubriachissimo signore, è ubriachissimo Che sei c***o di sciose Bossari ti aspetto, bossari Non per bombare No, 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 bossari, per fare un giplotto È impazzito, è impazzito È girare su la Lambo Dai poverino, tutti i sceltini che hanno fatto male Oh, però non vi rimuo a Gellons No, è la mia collana Un secondo Perché loro ci bastano se noi mettiamo i loro video E poi loro non censurano i volti È una parola seria Mi sta uscendo un filamento di borghello Non so se poi tu vedrai quando montrai il video E mi è scivolata la collana dritta E la sintomi di borghello Quella è la scia chimica Chiudiamo ufficialmente Tutti i video Dicendo 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 Daniele Bossari Taggato dovunque Ti aspettiamo qui Sul divano Accanto a me Per commentare un altro video di Mistero Ciao Bello però Ciao Ciao Grazie a tutti.